Onorevole Giuseppe Civati, possibile? Perché no? Perché è una riforma che in realtà non raggiunge nemmeno gli obiettivi che promette di raggiungere, non semplifica, non riduce i costi della politica, crea conflitti nuovi tra lo Stato e le Regioni, anche potrebbe essere tra la Camera e il Senato, soprattutto se sarà un'espressione di due maggioranza diverse, perché è stata fatta a colpi di maggioranza senza buon senso, potremmo dire, senza scegliere le cose migliori e più condivise, perché è stata fatta tutta insieme, infatti gli italiani si trovano a votarla come se fosse un pacchetto chiuso, in realtà cose diverse al suo interno che potevano anche essere valutate e approvate al Parlamento in modo separato, perché è stata votata a un Parlamento che ha un premio di maggioranza dichiarato incostituzionale, che avrebbe invitato tutti ad una maggiore cautela. Il mio invito è a fermare questo piano inclinato, questa tendenza che è sbagliata e diventa pericolosa se capita in mani sbagliate anche loro.